Ancora si segna sulla corsia di testa, il tentativo di cross al centro con Vucinic che prova a girare il colpo di testa e palla fuori Mirko Vucinic. Siamo al quarto minuto del primo tempo con Daniele De Rossi che parte a girare con il destro, palla alta di pochissimo. Tonetto, prova ad offendere quello qui, Max Tonetto che agghiaccia bene, lo attacca subito Marco Rossi, Tonetto cerca lo spazio per il cross, lo effettua, palla che rimane lì, Tantai! Sì, Rodrigo! Tantai proprio lui, novantesima presenza in Serie A con la maglia del Roma, 1-0 per noi. Poi Mirko Vucinic, trova a girare, Mirko! Vucinic, 2-0, il genio è riuscito a trovare un gol alla sua maniera, Mirko Vucinic. Poi Borriello cerca spazio per il tiro, arriva ancora per Sculli, attenzione, crea super unità numerica all'interno del rigore, Borriello, Doni! E c'è il gol del Genoa, il gol di Marco Rossi. Ecco c'è il pareggio del Genoa, incredibile! Attenzione, palla che rimane lì, possibilità per l'altro, rigolo del tagliamento, calcio di rigore, calcio di rigore! Dieci minuti alla fine, qui allo Stadio Olimpico. Il pronto De Rossi. Forza Daniele. Agli 11 metri. Parte De Rossi. Vado a te! 3-2! Il portato Brucci ed arriva al direttore di gara. Credo che abbia sentito qualcosa il quarto uomo, Casperini crede che è allontanato dal terreno di gara. È così. Manzini. Andare all'uno contro uno con Marco Rossi. Finisce qui! Vinciamo anche questa! 3-2 per noi! Grazie! 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 Grazie!